Senza girarci tanto intorno, sei il colpo del mercato estivo del Pescara, Galano, ti pesa un po' questa responsabilità? No, no, assolutamente, anzi mi fa piacere, sono felicissimo di essere qui a Pescara perché sono tanti anni che il Presidente mi cerca, quindi non devo responsabilizzarmi, anzi. Sono molto felice e entusiasta di iniziare questo percorso. Come sta Galano? No, no, sto bene, sto bene, il passato ormai è alle spalle, ora voglio soltanto concentrarmi a fare bene qui. Classico esterno offensivo, Mancino, ti piace giocare a piedi invertito, nella tua migliore stagione a Bari sei andato anche in doppia cifra? Sì, sì, il mio ruolo lo sapete, mi conoscete, penso, un po' la gente mi conosce, quindi ho sempre giocato esterno a destra, quindi speriamo di fare anche bene qui. Tra l'altro il Pescara è molto ambizioso, ogni anno riesce a essere lì nella zona playoff, secondo te quale deve essere l'obiettivo per questo campionato? Il Pescara è sempre stata una squadra ambiziosa, ogni anno lo dimostra, arrivando sempre in alto. A volte arrivare lì a vincere il campionato bisogna creare un gruppo che poi a volte ti fa vincere i campionati. Quest'anno abbiamo visto il Brescia, il Lecce, comunque non erano grandissime squadre, però magari giocavano bene, correvano in questo campionato, è molto importante. Quindi se hai queste doti qui, alla fine penso che il campionato lo riesce a vincere. A quella parte della tifoseria che dice sì, però Cristian nell'ultimo anno ha avuto dei problemi a Foggia, cosa ti senti di dire? Come li tranquillizzi? Guarda, riguardo alla scorsa passata stagione a Foggia tutti sappiamo com'è andata, è stato un anno travagliato sotto tutti i punti di vista secondo me, ma il passato è il passato. Adesso io voglio soltanto concentrarmi a fare bene qui, a me del passato non interessa più. Ti chiedo le ultime due cose, la prima, com'è nata questa trattativa con il Pescara? Beh, sinceramente ero in vacanza e mi chiamava sia il procuratore che il presidente, che comunque mi volevano a tutti i costi e al fine io non mi sono fatto prendere due volte e ho accettato questa scelta. Aiutaci a conoscere anche un po' Busellato che è come te arriva da Foggia. No, Busellato, dai, sono tanti anni che gioca in Serie B, è un ottimo giocatore che farà bene al Pescara.